Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Un ricercatore che si occupa di clima è un po' come uno che lavora nella sala macchine della nostra astronave, in questo caso il nostro pianetino, e vi avverte che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo un problema con l'impianto di riscaldamento e di condizionamento e il problema rischia di trasformarsi in qualcosa di grave se non interveniamo in tempo. Ecco perché dobbiamo oggi capire da dove viene questo problema e con tanti anni di ricerca scientifica si è individuato il fattore che non funziona e questo fattore è il fatto che i 200 anni di rivoluzione industriale che ci hanno dato tanta prosperità e ci hanno portato alla straordinaria quantità di mezzi tecnologici di cui disponiamo non erano gratis. Hanno lasciato dei sottoprodotti negativi, in particolare i residui della combustione del petrolio, del carbone e del gas che hanno aumentato i gas a effetto serra, ma non ci sono solo quelli, ci sono anche tanti altri fattori inquinanti che possiamo vedere in una curva che era prima e che è l'impronta ecologica, cioè è quell'insieme delle risorse che noi preleviamo dal pianeta, tutto ciò che usiamo da un legno di una foresta, i pesci che peschiamo nell'oceano, i minerali che estraiamo e i rifiuti che reimettiamo dopo nell'ambiente. Allora noi vediamo che fino al 1970, con un mondo che era popolato da 3 miliardi e mezzo di persone, la metà di quelli che ci sono oggi, siamo attorno ai 7 miliardi e mezzo, era ancora in equilibrio con gli interessi della natura. Prelevava nell'anno e alla fine, il 31 dicembre, possiamo dire, ripartiva con il primo gennaio la produzione della natura dell'anno successivo, ma abbiamo continuato una crescita smodata senza tener conto degli allarmi che già in quegli anni i miei predecessori avevano portato all'umanità e il risultato è che oggi consumiamo una terra e mezza. La mezza terra è tutto ciò che non ci sarà più per le generazioni future ed è anche l'eredità scomoda dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, della estinzione di specie che lasciamo al futuro. Se non vogliamo arrivare alla bancarotta della natura, cioè con un mondo dove la popolazione aumenta sempre di più, i consumi e gli inquinamenti ancora di più, noi dobbiamo cambiare oggi percorso, dobbiamo rientrare all'interno dei limiti fisici dell'unico pianeta che abbiamo. Semplice, no? Se continuiamo a crescere verso i tre pianeti che sono previsti come necessità fisiche della nostra avidità di specie attorno già al 2050, la natura fa bancarotta e i danni potrebbero essere irreversibili per le generazioni future. Il cambiamento climatico è un problema forse più ampio, più vasto di cui sentiamo più parlare e sappiamo oggi che la temperatura è aumentata sul pianeta di circa un grado nell'ultimo secolo, la maggior parte di questo aumento termico è molto recente, negli ultimi trent'anni si impone con una straordinaria forza perché il 2016 è stato l'anno più caldo della storia, preceduto dal 2015, preceduto dal 2014, insomma vediamo ormai una sequenza importante di una rampa di aumento della temperatura che è il sintomo della malattia climatica del nostro pianeta. Qual è la causa? Ormai l'abbiamo identificata. È la CO2, l'anidride carbonica, il biossido di carbonio di origine fossile, perché di CO2 ce n'è tanta nel pianeta, ma una parte è quella nel ciclo della fotosintesi, le piante la prendono dall'aria, fotosintesi, noi mangiamo un panino al salame, dentro il pane, dentro il salame non c'è altro che una parte di quel carbonio che noi usiamo per vivere lo restituiamo respirando, è un ciclo chiuso. Quello che entra, esce e ritorna dove era prima. Ma liberando il carbone, il petrolio e il gas che stavano sotto terra da milioni di anni, noi abbiamo aggiunto una notevole quantità, attualmente sono 36 miliardi di tonnellate all'anno di CO2 che vanno in atmosfera e cambiano quindi la composizione chimica, arrivando a 400 parti per milione, che sono un numero straordinario. 400 parti per milione vogliono dire una quantità di CO2 nell'aria che non si rilevava da almeno 800 mila anni. Lo sappiamo attraverso i carotaggi che sono stati fatti al Polo Sud dove bollicine di aria fossile incluse dentro il ghiaccio antico, analizzate in laboratorio, ci dicono, guarda che il massimo assoluto di quantità di CO2 nell'aria in 800 mila anni si è toccato una volta sola attorno a 330 mila anni fa con il valore di 300 parti per milione. Quindi da 300 a 400 è tutta roba nostra. È danno recente, è cambiamento recente dell'atmosfera terrestre che come effetti ha l'aumento della temperatura perché la CO2 è il principale gas a effetto serra e svolge un po' la funzione di una sorta di coperta chimica che scalda il pianeta. I sintomi quindi li vediamo già con quell'aumento di un grado in un secolo. I ghiacciai. I ghiacciai sono un bel termometro naturale che materializza quello che ci dicono i dati misurati dagli strumenti. Sulle Alpi abbiamo questi testimoni muti che sono in terribile riduzione. abbiamo perso il 50% della loro superficie soltanto in un secolo. Cioè l'effetto di un grado lo vediamo attraverso la perdita del ghiaccio delle Alpi ma anche nelle Ande, ma anche in Imalaya, ma anche nelle montagne rocciose ma anche al Polo Nord e in Groenlandia. Allora il nostro futuro, le simulazioni matematiche del clima che ormai vengono fatte da oltre 50 anni circa sono diventate veramente affidabili. E pur nell'incertezza di prevedere il futuro ci dicono almeno qualcosa di importante per scegliere la traiettoria più ragionevole. Se continuiamo a inquinare come facciamo oggi e seguiamo il grafico che ci porta ai tre pianeti nell'impronta ecologica generale della Terra, noi rischiamo di avere al 2100 un aumento di circa 5 gradi nella temperatura terrestre che è veramente una catastrofe ecologica, una catastrofe soprattutto per noi, non per la natura. La natura cambia, evolverà, si adatterà a 5 gradi in più ma l'uomo si adatterà? No, perché non ha la capacità soprattutto per variazioni così rapide per una società così complessa come la nostra di adattarsi. Allora la scelta è quella di seguire la parte più bassa del grafico, in questo caso la linea azzurra, che con una dieta ferrea sulla nostra economia ci permetterà di mantenere l'aumento della temperatura entro 2100 in 2 gradi. Due gradi sono medio di 5, non saranno una passeggiata perché vuol dire ancora aggiungere 1 a quello che è già salito dalla fine del 1800, ma vuol dire comunque avere maggiori capacità di adattamento e di reazione. Il protocollo, l'accordo firmato a Parigi nel dicembre del 2015 vuole proprio questo, vuole farci ridurre le emissioni per ridurre l'aumento della temperatura e per ridurre anche l'aumento del livello dei mari perché i ghiacciai che fondono fanno aumentare i mari, il riscaldamento delle acque le dilata. Attualmente gli oceani della Terra crescono già di circa 3 millimetri all'anno, ma più scaldiamo e più cresceranno. Risultato finale. Se scegliamo la strada dei 5 gradi, la peggiore, avremo anche almeno un metro di oceano in più a fine secolo. Se conteniamo l'inquinamento e il riscaldamento in 2 gradi avremo mezzo metro circa di mare in più. È sempre un problema, soprattutto per qualche zona molto vicina a noi che conosciamo bene, ma è un problema che possiamo maneggiare meglio rispetto ad un aumento di un metro. Allora, come vedete, ci sono gravi malfunzionamenti del sistema, ma il fatto che noi ne siamo responsabili ci mette in una posizione in fondo costruttiva. Possiamo anche decidere di riparare il guasto in sala macchine. Abbiamo tanti obiettivi che sono riconosciuti da tutte le organizzazioni internazionali e che da tempo sentiamo risuonare nelle nostre orecchie sotto forma di economia verde e cose di questo genere. Solo che devono diventare la priorità. Non devono essere degli optional. Devono essere una via corale condivisa per tutta l'umanità. Si deve fare solo quello. Quella è l'unica cosa intelligente che possiamo fare. Se si rompe la macchina è un problema grave. Non possiamo più ripararla. Allora, in breve, la ricettina delle cose che ragionevolmente possiamo fare già oggi, sulla quale poi ne potremo innestare altre che cresceranno, con l'impegno, con lo studio, con l'innovazione. Dobbiamo ridurre il consumo delle risorse non rinnovabili. Prima di tutto il consumo dei suoli. Più cementifichiamo, più creiamo problemi. Aumentiamo il rischio di alluvioni. Abbiamo meno acqua che si depura scendendo nelle falde. Abbiamo meno intercettazione di CO2 da parte della fotosintesi. E ci togliamo la cosa più importante. Il suolo per produrre cibo per il futuro dell'umanità. Quindi, fermiamo il consumo dei suoli. Facciamo meno rifiuti e ricichiamoli tutti. Sono cose che si possono fare, non sono cose difficili. La raccolta differenziata, ma anche agire alla fronte. Il miglior rifiuto è quello non prodotto. È già la mano che si muove nel nostro gesto di acquistare che sceglie il rifiuto di domani. Altrimenti, i rifiuti creano un danno grave. Non solo al clima, perché dietro al rifiuto c'è un consumo energetico, ma anche alla vita, perché i rifiuti che vanno soprattutto in mare costituiscono una grave minaccia per tutta la fauna marina che si nutre, per esempio, della plastica e nel passaggio successivo ce la porta nel piatto a noi con tutto il danno sanitario che arriva dagli additivi tossici che vi sono contenuti. Passiamo rapidamente alle energie rinnovabili. Sono già mature per essere usate su larga scala. Si può fare pannelli fotovoltaici, collettori sonari, turbine eoliche, biomasse, tutto dove si può ricorriamo a energia fatta con le forze della natura e, ovviamente, accanto a queste ci deve essere il risparmio e l'efficienza. Siamo una società che spreca moltissima energia, quindi ne usiamo di meno, la usiamo meglio e quella che usiamo la andiamo a prendere dalle forze naturali, dal sole, dall'acqua, dal vento, dalle biomasse. Dobbiamo cambiare un po' anche le nostre abitudini. Viaggiare è bello, viaggiare è importante, ma sicuramente viaggiare in aereo non tanto. Inquina assai produce grandi emissioni di CO2 per unità di passeggero. Quando facciamo un volo intercontinentale, purtroppo, produciamo tanta CO2 come utilizzare un'auto per un anno. quindi dobbiamo essere più responsabili nelle scelte. Viaggiare in aereo è una cosa importante. Facciamola solo se è importante veramente anche per noi e non per andare a prendere il caffè da qualche parte e gloriarci a lunedì in ufficio che abbiamo fatto un weekend oltreoceano. Diamo valore alla tecnologia che ci offre delle possibilità, per esempio il più telelavoro. Macchine elettriche non risolveranno tutti i problemi del mondo, ma si può fare molto. Magari se caricate con i pannelli fotovoltaici arrivano a ridurre fortemente le emissioni. Favorire l'agricoltura di prossimità. Perché far viaggiare le fragole oltreoceano a gennaio? Ogni fragola che mangiate oggi a gennaio è in realtà un cucchiaino di petrolio. Recuperiamo una produzione locale. Insomma, siamo un po' alla vigilia di una guerra mondiale. Winston Churchill, col quale io avevo in comune esclusivamente il papillon, nel 1934 si lamentava che nessuno reagiva alla Germania nazista che si stava riarmando. Nel 1936 dice, ragazzi, troppo tardi queste cose le dice al Parlamento inglese. Qui ormai siamo entrati nell'era delle conseguenze. La prevenzione, bisognava farla prima. Le conseguenze le conosciamo tutti e cominceranno nel 1939 con il più terribile conflitto dell'umanità. Ecco, in quel momento Churchill diventa un leader. Non dice, ah, ve l'avevo detto. Ma dirà, non mollate. Continuiamo perché possiamo ancora farcela. Siamo in questa situazione. Avanti. Da stasera io vorrei che cominciate tutti a fare il vostro piccolo gesto per salvare il futuro. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.